Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. Nell'immaginario collettivo questo deficit spesso è associato a scarsa capacità cognitive e intellettive, ma non è assolutamente così e la storia lo ha dimostrato. Personaggi del calibro di Leonardo da Vinci, Napoleone, Mozart, Picasso, Einstein, tanto per citarne alcuni, erano dislessici, eppure in vita hanno dimostrato di essere menti superiori. Ma come si capisce l'autismo in età infantile, soprattutto come si può aiutare un, chiedo scusa, non l'autismo, come si capisce la dislessia in età infantile, soprattutto come si può aiutare un bambino dislessico, lo chiediamo al nostro ospite. Buongiorno e benvenuto ai nostri studi al dottor Renato Acerbo. Con lei ho fatto trasmissioni dedicate all'autismo e quindi avevo collegato l'autismo alla dislessia. Oggi parliamo di dislessia, no dottore? Senz'altro. Dottor Renato Acerbo, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile e centro di riferimento per i disturbi del neurosviluppo della ASL di Pescara. Che cosa si intende per dislessia, dottore, e che vuol dire essere dislessico? Sì, la dislessia è un tanto disturbo molto comune, ma è un disturbo appunto del neurosviluppo. I disturbi del neurosviluppo sono disturbi che, come dire, insorgono precocemente nell'infanzia e hanno un'impronta, come dire, neurologica, diciamo così. Quindi partono con delle caratteristiche particolari, come appunto quelle che sono descritte nei criteri diagnostici, con una difficoltà proprio nella lettura, che è sostanzialmente più bassa come capacità, come livello, rispetto a quello che ci si attenderebbe per l'età, per livello di istruzione, ma soprattutto anche per intelligenza. E l'altro aspetto che è molto importante è che compromette significativamente proprio il livello di adattamento del bambino alla scuola. Quindi è un disturbo che comporta molta fatica nelle acquisizioni della lettura e scrittura, perché spesso appunto lettura e scrittura vanno insieme. Quindi il bambino ha queste difficoltà proprio nel fondere le sillabe, non riesce a leggere in modo preciso, mette molto più tempo, fa degli errori tipici come le sostituzioni di fonemi, che sono similari per suoni, l'articola con la D, la F con la V. Quindi ci sono questi errori e queste difficoltà anche di comprensione del testo, in quanto proprio il rallentamento produce anche una difficoltà nel capire. Ma soprattutto a me quello che preme molto dire è che poi questi alunni, ma anche adulti, rischiano per queste difficoltà non solo una difficoltà di adattamento scolastico, ma proprio una difficoltà anche di sviluppo dal punto di vista emotivo e affettivo, con problemi anche sul piano proprio della qualità della vita e della percezione di se stesso. Questo ne parliamo dopo. Comunque va ben distinta da altri tipi di disturbi con i quali spesso viene confusa, perché purtroppo la diagnosi a volte arriva in ritardo e vi sono confusioni rispetto a disturbi più tipici come possono essere l'autismo, ma soprattutto il ritardo mentale, sono bambini che vengono confusi per bambini che non sono intelligenti, quando l'intelligenza quasi per definizione è normale, e sono confusi con altri problemi che sono invece legati a condizioni sociali, che possono essere l'immigrazione, la scarsa possibilità di apprendimento, bambini che non sono seguiti bene a scuola e anche bambini sbogliati, perché la prima cosa che si dice è che è un bambino che non vuole fare, che non vuole... Senta, perché se ne parla tanto oggi di dislessia? È un disturbo nuovo oppure è sempre esistito? Allora, come un po' tutti i disturbi che oggi, come dire, vengono fuori in modo molto forte, pensi che forse la metà delle richieste che noi abbiamo nei servizi di neuropsichiatria infantile sono per i disturbi specifici di apprendimento, di cui fa parte appunto la dislessia. Ovviamente si può dire che questo disturbo sarà insorto quando l'uomo ha iniziato a sviluppare il codice scritto, che è un codice abbastanza recente, perché sono solo 10-15 mila anni che l'uomo utilizza la lettura e scrittura, mentre noi parliamo da 200 mila, 250 mila anni. Quindi presumibilmente, quindi da molto più tardi, presumibilmente è un disturbo che è sempre esistito. Però le prime evidenze storiche risalgono al 1800, i primi tra l'altro furono gli oculisti a riconoscere questo disturbo e quindi gli oftalmologi parlavano di cecità per la lettura, strefo, simbolia, erano termini dell'Ottocento. Però siamo dovuti arrivare al 1962, che la Federazione Mondiale dei Neurologi ha definito questo gruppo che chiamiamo disturbi specifici d'apprendimento, famosi DSA. DSA. I DSA che sono appunto disturbi, quindi non malattie, quindi difficoltà che sono specifiche, l'S sta per appunto specifico, che significa... Dell'apprendimento. Che interessa solo un aspetto settoriale dell'apprendimento, quindi scolastico, e dandone una definizione appunto per dire difficoltà nell'acquisizione lettura e scrittura non dovute a altre condizioni. Però ecco, addirittura siamo arrivati all'85 che una studiosa famosissima, si chiama Uta Fritt, ha definito proprio un po' un modello di lettura, cioè come si impara a leggere, perché questo processo è un processo complicato, non semplice, proprio perché il nostro cervello in questi 10-15 mila anni non è riuscito a organizzare delle strutture specifiche. Noi per esempio abbiamo strutture specifiche per il linguaggio, l'area di Broca, di Verning, quindi sono aree che sono evolute in questi anni a fare questo compito, invece la lettura e la scrittura necessita di un processo di apprendimento non facile, noi lo sottovalutiamo, perché dobbiamo utilizzare alte aree del cervello per sviluppare un processo che parte da capacità che prima iniziano anche verso i tre anni di vita, nel senso che il bambino comincia a riconoscere la parola come una parola unica, cioè per esempio la parola barra un bambino la può leggere tra virgolette già a tre anni, che noi chiamiamo questo uno stadio logografico, per dire che il bambino dalla forma della parola lo legge come se fosse un tutt'uno, riesce già a riconoscerla, come se leggesse, non so, vedesse la figura di un gelato, capisce che lì c'è scritto barra e là si vendono i gelati, ma in realtà non legge. Per imparare a leggere si inizia verso i cinque anni, quando cominciamo a riconoscere le lettere, quindi i bambini cominciano già nella scuola materna a fare questa corrispondenza tra un suono e un simbolo grafico, ma questo si chiama stadio alfabetico, e poi successivamente noi andando avanti nel primo anno di scuola elementare, oggi si chiama primaria, cominciamo a fare la corrispondenza tra i fonemi e i grafemi, e durante questo primo anno poi riusciamo a fondere i fonemi e i grafemi in parole intere, dandogli un significato che è poi quello lessicale. Questo per dire che il cervello ha bisogno di parecchio tempo, diciamo un anno o due, per creare dei collegamenti tra i neuroni e delle vie che diventano man mano automatizzate. Molti bambini purtroppo hanno difficoltà e falliscono in questo compito, che non è assolutamente facile. Mi ha già risposto a una domanda che volevo farle, è diffusa e mi sembra di capire che è piuttosto diffusa. È piuttosto diffusa soprattutto nei paesi anglosassoni, perché nei paesi anglosassoni non c'è una corrispondenza tra gafema e fonema, cioè abbiamo una difficoltà proprio soprattutto nello stadio ortografico, come si vede adesso, cioè non c'è una corrispendenza tra le parole scritte e le parole dette, quindi la lingua non è trasparente. Quindi nei paesi anglosassoni si arriva al 5-15%, mentre in Italia noi abbiamo una fortuna da una parte ad avere questa maggiore corrispondenza, salvo eccezioni, e quindi noi arriviamo a dei valori che stanno intorno al 3%. Va detto che nei paesi anglosassoni dove non c'è questa corrispondenza il dato è molto più forte, ma poi gli alunni migliorano molto di più, mentre i nostri dislessici, diciamo così, poi quando lo sono, lo sono veramente, quindi tende ad essere un disturbo persistente, anche se il soggetto poi vedremo a miglioramento. Che cosa non va nel bambino dislessico e perché non riesce a leggere pur essendo intelligente? Ecco, proprio per quello che dicevo prima, nel senso che la lettura è un processo complesso e quindi qui c'è l'esempio per dire di come il bambino dislessico vede un testo, nel senso ha proprio difficoltà nel sequenziare le singole lettere e unirle in fonemi e unire i fonemi in una parola intera. Questo perché comporta la necessità di unire più aree cerebrali, cioè ci sono diverse aree cerebrali che intervengono proprio perché, ripeto, non esiste un'area deputata alla lettura, ma intervengono aree che riguardano le aree visive, per dire, riguardano le aree appunto della rappresentazione delle lettere, aree che riguardano il sentire la lettera, riconoscerela all'interno della parola, aree che sono invece più motorie dell'espressione proprio della parola stessa e quindi dell'articolazione della parola stessa, oltre quelle che riguardano anche proprio il dare significato. Quindi per dire che c'è necessità di questa, come dire, integrazione di più aree e subentrano, questo è un modello di lettura che sembra apparentemente complesso, ma in realtà è il modo più semplice di rappresentarlo perché il meccanismo è molto più complicato, però per dire che intervengono processi come l'attenzione selettiva, la memoria di lavoro, cioè mantenere in memoria le singole lettere, le singole parole, ma soprattutto lì sono rappresentate, in quello che vedete, diciamo, le due vie più importanti, cioè una via che più di analisi visiva e di riconoscimento della lettera, che poi viene fusa e pronunciata, che è una via un po' più, come dire, diretta in quanto ci consente anche di, non so, leggere una parola che non ha un significato, poi invece noi normalmente utilizziamo soprattutto un meccanismo che si chiama di conversione grafema-fonema, che acquisiamo proprio verso i sei anni, per cui poi diamo significato alle parole attraverso questo meccanismo che deve diventare sempre più efficace e efficiente e ci consente di comprendere il significato, oltre che di pronunciare la parola. Quindi, diciamo, sono meccanismi che vanno man mano affinati e, ripeto, molti bambini hanno questa difficoltà nell'acquisizione nel primo e secondo anno di scuola primaria. Sì o no? Conosciamo le cause della dislessia? Diciamo abbastanza, nel senso che ormai sappiamo che questi disturbi, come i DSA, come altri disturbi del neurosviluppo, hanno una chiara impronta genetica. La genetica si pesa facilmente valutando la corrispondenza di un disturbo tra gemelli monovulari e gemelli bioovulari. Quindi i gemelli monovulari hanno spesso questo stesso disturbo e quindi il peso della genetica è molto forte, 70%, 50-70%. Però poi ci sono anche cause acquisite, chiamiamolo così, come per esempio alcol in gravidanza, sostanze in gravidanza, d'utilizzo anche delle anestesie ripetute, delle sofferenze da parto. Cioè ci sono anche delle cause, come dire, neurologiche, anche, devo dire, metodi didattici errati, perché per esempio, non solo c'è stata un'accelerazione dei programmi nella scuola primaria che è stata riformata, una volta noi imparavamo a leggere alla fine della prima elementare, oggi si pretende che i bambini leggano tutti a Natale. E poi c'è stata un'accelerazione, soprattutto con metodi globali, cioè quindi si presenta subito, noi una volta facevamo le stanghette, scrivevamo le lettere per tanto tempo, per mesi, mesi e mesi, poi siccome i bambini si annoiavano, era un po' ripetitivo, si è dato questa, c'è stata questa tendenza a presentare subito la parola, però questo per molti bambini è deleterio. Quali sono i disturbi frequentemente associati alla dislessia? Allora, va detto questo, che noi soprattutto come neuropsichiatri infantili abbiamo molto interesse a questi disturbi, ma soprattutto perché li consideriamo dei fattori di rischio, perché a prescindere dal disturbo, poi facilmente un bambino con un disturbo di questo tipo associa una serie di altri disturbi all'interno dei disturbi specifici d'apprendimento, come la disortografia, cioè proprio che è tipico, cioè frequentemente un dislessico, e anche disortografico perché poi ha difficoltà proprio di rispettare le regole ortografiche, perché il meccanismo è lo stesso, diciamo, è bidirezionale, no? Quindi sia nella lettura e nella scrittura usiamo lo stesso meccanismo. Però a volte abbiamo bambini che hanno discalculia, proprio difficoltà anche nel calcolo, è molto frequente, è molto non riconosciuto. Il 40% delle persone ha difficoltà nella matematica, questo non vuol dire il 40% è discalculico, però è molto frequente, è frequente la disgrafia, che è un problema proprio invece di grafismo e di coordinazione, ma spesso poi sono casi complessi con disturbi di attenzione, bambini che hanno problemi di linguaggio, di coordinazione come goffagine, ma soprattutto poi ci tengo a dire c'è un rischio molto alto di disturbi emotivi, proprio perché il bambino con DSA, spesso è un bambino che va in conto a frustrazioni, a sentimenti di scarsa autostima, a scarsa efficacia, il fallimento scolastico, il senso proprio di impotenza di fronte alla difficoltà, a volte anche dei rimproveri da parte dei genitori o insegnanti non giustificati, che non riconoscono, non capiscono subito, e quindi lo sviluppo poi di vissuti di ansia, di insicurezza e anche depressivi, che possono influenzare la persona per tutta la vita, per non dire poi frequenti abbandoni scolastici e comunque di influenze proprio sulla, perché quei casi che ha citato secondo me sono eccezionali, perché dietro c'era un'intelligenza, forse non nella norma, ma veramente oltre la norma, per cui poi questi personaggi, come dire, se ne sono esplosi al di là del disturbo. Come si arriva alla diagnosi, dottor Cerbo, e soprattutto quanto è importante formularla il prima possibile per poter intervenire? Guardi, credo che sia fondamentale, infatti è molto importante che ci sia attenzione a certe problematiche, proprio per poterle identificare precocemente, perché noi sappiamo, oggi abbiamo persone che arrivano alla diagnosi, anche frequentissime, alle medie, inferiori e superiori, per non dire delle persone che si accorgono all'università di avere un disturbo di lettura e scrittura, mentre noi dobbiamo cercare di identificare prima possibile, perché poi gli interventi sono molto efficaci quando vengono fatti precocemente, cioè quando c'è quella finestra, noi chiamiamo una finestra evolutiva, cioè un periodo in cui quella competenza si sviluppa e si deve sviluppare, se l'intervento è fatto in quel momento l'efficacia è altissima, se è fatta dopo, diciamo, le connessioni, quelle di cui parlavano prima, neuronali, si stabilizzano, gli interventi non sono più efficaci. Quindi bisogna riconoscere prestissimo, se possibile, addirittura nella scuola dell'infanzia, cioè gli ultimi mesi, no, direi gli ultimi mesi della scuola dell'infanzia, cioè gli insegnanti della scuola dell'infanzia dovrebbero fare delle valutazioni sui prerequisiti scolastici. Quindi tre anni, quattro anni, cinque anni, cinque anni e mezzo, quindi tra marzo e giugno dell'ultimo anno della scuola materna, quindi dell'infanzia. Però poi chiaramente nei primi due anni della scuola primaria, cioè elementare, la diagnosi va assolutamente fatta, anche perché la diagnosi, poi va detta, va fatta, viene fatta definitivamente a otto anni, cioè prima degli otto anni noi ci riserviamo un sospetto. In questi due anni di scuola primaria, cioè elementare, noi dobbiamo cercare prima un recupero all'interno della classe, ci sono dei metodi molto efficaci che gli insegnanti devono conoscere per poter proprio superare le difficoltà iniziali. Se il disturbo persiste, va fatta una comunicazione alla famiglia, si fa una valutazione e la valutazione poi arriva, diciamo, al sospetto diagnostico o alla diagnosi e si inizia un processo di recupero che poi si conclude anche nella scuola con misure che poi, diciamo, sono quelle che chiamiamo piano didattico personalizzato. Qual è la prognosi della dislessia? La prognosi, in realtà, essendo un disturbo persistente, le dovrei dire che è negativa, cioè nel senso che nel momento in cui la diagnosi è stata fatta a otto anni, cioè dopo questi tentativi di recupero, il processo, il disturbo permane. Però, detto questo, sappiamo che interventi precocissimi i bambini intanto danno dei risultati molto efficaci, per cui al limite la persona permane con delle difficoltà, ma delle difficoltà che si vedono solo in situazioni di stress, per esempio, non so, parlare in pubblico, leggendo un testo in chiesa e quindi uno potrebbe avere qualche difficoltà, ma la maggior parte dei bambini che fa un intervento precoce acquisisce delle competenze che li permettono di adattarsi a tutte le situazioni scolastiche con buona efficacia. Quindi, in questo senso, poi, l'adattamento scolastico può essere ottimo. E questo, però, ecco, dipende da quanto viene fatto l'intervento e deve essere precoce. Quindi, gli interventi molto lunghi non servono, serve anche valutare, però, molto precocemente l'impatto sul bambino dal punto di vista psicologico, perché ci sono due prognosi, diciamo, quella sul disturbo, che tende a essere persistente, però si può migliorare moltissimo, è la prognosi sull'impatto che questo disturbo ha sul bambino dal punto di vista psicologico, perché a volte questa prognosi non è buona, nel senso che se non la gestiamo bene, non gestiamo bene il disturbo, non incoraggiamo il bambino a superare la difficoltà che gli deve essere riconosciuta, perché se il bambino sa di avere una difficoltà e si impegna per superarla insieme alla famiglia e alla scuola, questo si ottiene un buon risultato. Se al bambino gli si dice che invece è un problema che non capisce, che non si impegna, viene rimproverato, viene sostanzialmente sottoposto, diciamo, a delle misure non idonee, e poi l'impatto sul vissuto personale può essere persistente. Si può curare? Esistono farmaci o trattamenti efficaci, comunque efficaci? Si può trattare benissimo, nel senso che oggi esistono tanti metodi, ma diciamo che poi il metodo più efficace è un metodo che noi chiamiamo fonologico, proprio perché lavora sulla automatizzazione di questo meccanismo di conversione grafema-fonema. Quindi si usano soprattutto le logopediste o gli psicologi dell'apprendimento, in questi anni hanno sviluppato diversi metodi, anche se poi l'efficacia nel senso di comparazione tra un metodo e l'altro non è così certa, però i metodi esistono, sono utilissimi, la riabilitazione va fatta in un modo concentrato, quindi 20-40 sedute fatte al momento giusto sono veramente efficaci. I farmaci aiutano, ma non tanto il processo di lettura e scrittura, quando migliorano l'attenzione, migliorano la memoria, quindi quelle funzioni che sono collaterali, dicevo prima, al processo. Poi esistono anche tecniche sperimentali, adesso di stimolazione dei circuiti neuronali, ma queste devono ancora avvenire. L'importante è che vengono messi in mano i bambini, il personale esperto, che sappia trattare anche gli aspetti psicologici, perché è importante andare di pari passo sull'aspetto riabilitativo, ma anche il sostegno all'alunno, alla famiglia, alla scuola, perché non si scoraggi, perché è molto fatico. Per un bambino che ha questo disturbo, leggere è un po' come dire, la differenza, per fare un esempio, è come dire andare a fare una passeggiata che può essere una cosa gradevole, quindi leggere dovrebbe essere una cosa gradevole, e invece andare a fare una passeggiata con uno zaino di 20 kg. Cioè, per loro è come fare una passeggiata con uno zaino di 20 kg. Noi glielo dobbiamo, in qualche modo, alleggerire, dobbiamo aiutare, perché è veramente pesante. Si può guarire? Ecco, detto quello che ho detto prima, si possono ottenere buoni risultati. Guarire, proprio, completamente no, perché per definizione è stata fatta la diagnosi a otto anni, è una diagnosi, tra virgolette, persistente. Però si può, ripeto, avere un adattamento completo, e quindi un percorso scolastico, lavorativo, perfetto, se si interviene precocemente e si gestisce benissimo l'aspetto emozionale del bambino, che non deve, che quello che fanno i bambini spesso è, di fronte alla difficoltà, evitano. Allora, questo meccanismo di evitamento produce un circolo vizioso. Se io evito di leggere, quindi di fare una cosa che mi è difficile, poi, praticamente, non solo miglioro, ma, casomai, vado indietro, perché non stimolo il meccanismo. A questo proposito, abbiamo ancora due o tre minuti prima della sigla, a questo proposito, la scuola che cosa può fare per aiutare un bambino dislessico? Guardi, la scuola è centrale, veramente centrale, perché non solo è centrale nell'identificazione precoce, perché più che la famiglia è la scuola che deve riconoscere la difficoltà, perché la famiglia, purtroppo spesso succede pure il contrario, cioè che sono più i genitori della scuola. Quindi la scuola subito deve riconoscere la difficoltà, distinguere le difficoltà normali di bambini che hanno anche altre problematiche di immigrazione o di bilinguismo, e poi, soprattutto, riuscire a mettere allo stesso livello, cioè dare degli strumenti per far sì che il bambino possa partecipare con successo comunque alla scuola. Quindi non chiedere agli stessi bambini con difficoltà le stesse competenze. Ecco perché noi abbiamo una normativa che è stata la legge 170 del 2010 e poi tutte le normative che sono venute fuori nel 2011-2012 sui bisogni educativi speciali, che è una normativa che sostanzialmente dice questo, cioè riconoscere i bambini subito, caso mai certificarli, quindi mandandoli a un servizio, il servizio di psichiatria infantile di solito certifica che c'è il disturbo, ma la scuola può riconoscerlo prima e gestirlo bene prima, perché l'insegnante è l'esperta della lettura e scrittura, se non riconosce lei. E poi soprattutto insieme a noi della neuropsiciatria infantile stilare quello che la normativa dice il piano didattico personalizzato, che è fatto di strumenti compensativi o dispensativi, che significa che per aiutare questi alunni noi dobbiamo compensare la difficoltà, quindi per esempio facilitarli con degli audiolibri, per esempio fargli delle mappe concettuali, se ha una discalculia dare la calcolatrice, cioè fare le fotocopie piuttosto che i dettati, quindi compensare la difficoltà in modo tale da rendere più leggero il compito e non farli sentire marginati, quindi poter partecipare completamente. E poi ci sono gli strumenti dispensativi, cioè in alcune situazioni, per esempio, non mettere il bambino in difficoltà, cioè non esporlo ad un insuccesso scolastico, come per esempio richiede leggere altavoce, rimproverarlo, quindi non so, dargli più tempo. Esiste la normativa stessa, addirittura per esempio nei concorsi pubblici, se lei va a vedere tutti i bandi, oggi noi abbiamo questa normativa europea, dove c'è scritto alla fine del bando, dice la persona con disturbo DSA, se presenta una certificazione a struttura pubblica, può avere delle agevolazioni che significa, non so, se è previsto due ore per la prova d'esame, la commissione potrà stabilire due ore e mezza. Cioè un po' di tanto di sensibilità. Esatto, quindi noi le norme ce l'abbiamo, le dobbiamo applicare e soprattutto dobbiamo aumentare la sensibilità generale, perché queste persone, come ha citato lei, possono dare il meglio di loro se vengono riconosciute, aiutate e anche in parte, come dire, trattate con successo. Facilitate proprio nell'integrazione della società. Da un certo momento in poi vanno facilitate, creando poi quegli aiuti che noi diciamo devono essere cuciti su misura, perché ogni bambino, anche per le comorbidità che abbiamo visto, è diverso dall'altro. E quindi bisogna trovare per ognuno la giusta soluzione che lo possa aiutare nel successo scolastico e nel non sviluppare dei sentimenti, diciamo, di inadeguatezza. Grazie, grazie. Grazie al dottor Renato Cerbo, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile, nonché centro di riferimento per i disturbi del neurosviluppo della AS di Pescara. Grazie per essere stato con noi, con lui abbiamo parlato di dislessia. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione. Grazie a voi e spettatori, ci vediamo la prossima settimana. Grazie, arrivederci.